Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Secondo varie fonti online, come Wikipedia.org, Mara Venier, nota anche come Mara Povoleri, è una nota presentatrice tv, attrice, opinionista e ex modella italiana. C'è stata una tragica perdita nella sua famiglia, Pierre Francesco Forleo, marito della figlia di Mara, Elisabetta Ferracini, è deceduto all'età di 62 anni. Forleo occupava un ruolo importante in Rai, gestendo la direzione dei diritti sportivi. Mara, in lutto profondo, ha condiviso un commovente messaggio rivolto alla figlia e a Pierre, dicendo, sei stato un genero eccezionale, hai portato felicità e amore nella nostra famiglia. Ti ho amato come se fossi mio figlio. Siamo tutti devastati. Tutto è accaduto così rapidamente. Lascia un messaggio nei commenti per esprimere le tue condoglianze e il tuo affetto per Mara Venier e la sua famiglia, devastata da questa tragica notizia.